Benvenuti a Zlatan Got Talent, qui cerchiamo un nuovo allenatore per salvare la stagione e provare a sostituire Pioli E benvenuti anche ad Aurelius Got Talent, io il francese l'ho già spedito, sta già facendo le valice Allora vado? E certo anche in fretta, Adjager sia fuori dalle palle Entra il primo candidato Buonasera, ecco a voi il migliore allenatore del mondo a disposizione Lo voglio subito, preso! Sì, io mi accontento anche solo di 20 milioni all'anno, a giugno però, ora voglio l'anno sabbatico, mi voglio rilassare E no Antonio, a me servì ora, è peccato, per me ora no, grazie Io l'ho prenoto per giugno, ma anche noi abbiamo bisogno subito, no, anche per me no E vabbè, aspettiamo giugno, e comunque dopo aver vinto con Inter e Juve, vincere anche con Milan, non sarebbe male Avanti il prossimo! E buonasera, ecco a voi il maestro Giampaolo Ah, guarda che ci rivede Avete voglia di testa alta e giocare a calcio? Perché se volete... No, per carità! No, no E non mi avete neanche fatto finire di parlare Prossimo! Buonasera a tutti, sono Luciano Luciano, ti prego, ho sbagliato a mandarti via Golden Battles, mio! Ma non è innazionale lui! Sì, in realtà sarei ancora innazionale, ma tanto si gioca con la Macedonia e con la Macedonia si perde sempre Quindi l'Europeo lo si saluta e tra due settimane sono bello e libero Eh, Luciano, ma il francese l'ho già spedito E non posso stare due settimane senza allenatore Già lo siamo stati senza quattro mesi, eh! Grazie, presidente, per le belle parole Eh, prego, francese Eh, vabbè, Luciano, ma l'incuore per me è no Colgo il Golden's, sto cazzo di cosa gialla Via, via, dai! Anche a me serve ora Ti opziono per giugno Come conte Poi vediamo Avanti prossimo! Buonsoir, io sono Zinedine Zidane Porca troia, Zidane! Io voglio 100 milioni all'anno e alleno solo giocatori forti Mi prendi Haaland, Bellingham, De Bruyne, Bappé e vengo da te E vinciamo tre Champions Sì, ma con che cazzo di soldi? Mi tocca vincere dieci Oscars ad Hollywood Per pagarli tutti, eh! Poi sono io il vostro Haaland Sono io il vostro Bappé Sono io il voi Ecco, vedo, sto già litigando Vabbè, i francesi mi hanno rotto i coglioni Via, per me no! I pelati ultimamente non vanno bene a Milan Via! Eh, ho già capito Tocca fare a me E vai! Ritorna a fare il tuo vice! No, tu rimani a fare magazziniere Il vice magari lo cerco nelle prossime settimane Per ora, va bene così Piega sta cazzo di maglia, su! Fai la lavatrice! Va bene, va bene, Zata, va bene E io che faccio? Qua passa il tempo E non ho ancora l'allenatore Mazzarri? Il tempo passa in fretta, presidente Quell'orologio Quel maledetto orologio Quanti ricordi Va bene, senza d'altro Preso! Contratto fino a giugno 10 euro al mese Non rompre i coglioni, dai! Ma ci sono ancora Ravezzi e Cavani, presidente Cazzo, ma sei rimasto al paleolitico? E mi si è affermato l'orologio Amsic C'è ancora E ancora il capitano Ma chi è Amsic? Il capitano è di Lorenzo? Eh, non lo conosco Ma credo che ci sarà il tempo poi Per conoscere, ecco Partiamo bene Presidente, tranquillo In casa ho già pronto Una serie di scuse delle mie Adesso gliele dico Un tipo Siamo campioni d'Italia Quindi contro di noi Le scuole danno il massimo Poi Si vengono con la mascherina Che gli dà fastidio C'è la Coppa d'Africa L'Africa è lontana L'Africa fa caldo E ci sono i devoni La savana Poi La Coppa d'Ascheli È un nome complicato da pronunciare I compagni non lo chiamano Non si gira E voi a casa Mettete likes al video E a 50.000 likes Vi regalo l'orologio di Mazzarri Eh Gli autogol Gli autogol